C'è anche il plesso Mascagni di Sciacca tra gli istituti scolastici della provincia di Agrigento che hanno ottenuto il finanziamento dal Ministero per interventi di edilizia, adeguamento e messa in sicurezza. Per la scuola dell'infanzia saccense si tratta di un appalto da 368 mila euro. Nell'Agrigentino in totale giungono fondi per 17 milioni di euro spartiti tra diversi comuni e strutture scolastiche. Questo l'elenco. Due gli interventi previsti a Siculiana, sull'istituto Don Bosco e sul plesso Capuana. A Ravanusa si porterà a cantiere la messa in sicurezza antisismica della scuola Manzoni. A Villa Franca Sicula giungono un milione e mezzo di euro per la scuola elementare Pirandello. A Menfi un altro milione e mezzo per il plesso Lombardo Redice. A Camastra si metterà a mano all'istituto Rombò per oltre un milione di euro. Un altro milione e mezzo per il Fra Felice da Sambuca di Sambuca di Sicilia e per il plesso di via Giulio Cesare di San Giovanni Gemini. A Ribera un milione e 172 mila euro per la primaria in Bornone e 555 mila euro per la scuola media di via Mosca. A per un altro milione e mezzo totali. A Palma di Montechiaro fondi per il circolo Domenico Provenzani 687 mila euro e Raffadali con 400 mila euro per la scuola Arcobaleno. Una pioggia di soldi dunque che permetterà di sistemare molti istituti e aprire di conseguenza nuovi cantieri. Non tutti sono rimasti contenti della ripartizione in quanto per esempio non spetterà nemmeno un euro a grossi centri come Agrigento, Canicattì e Licata. In tutta Italia saranno 1739 gli interventi di messa in sicurezza antisismica che beneficeranno dei miliardi stanziati dalla legge di bilancio 2017. Si tratta dei fondi relativi al bando MIUR dello scorso anno, mentre il comune di Sciacca ha redatto adesso altri 13 progetti per indagini antisismiche per i quali si attende l'eventuale finanziamento da parte della regione siciliana.